L'abuso dei social network abbinato al culto della personalità e alle esigenze di apparire produce disastri nella società moderna e non solo tra i giovanissimi, al contrario sono tanti ultra quarantenni ad aver perso i riferimenti e spesso ci si orienta verso una chirurgia estetica che se non praticata da professionisti del settore dotati della necessaria sensibilità può diventare un rimedio peggiore del male. Proprio per un approccio serio e lontano da schemi di consumismo dell'estetica, Dario Martuscello, medico specializzato in chirurgia estetica e plastica, ha inaugurato il Dama Medical Center nel quale di Chiaia in via Chiatamone. Il dovere del medico ancora prima del chirurgo estetico è quello di consentire la condizione di benessere non soltanto fisica ma anche psicologica del paziente. Un paziente che soffre di dismorfismo, un paziente che soffre di invidia nei confronti di immagini che provengono dai social e quant'altro, immagini che noi sappiamo benissimo essere già di base anche distorte e photoshoppate, è un paziente che deve essere aiutato ma con un approccio molto più mentale che assecondando quelle che possono essere delle sue esigenze di modifiche estetiche. Si tratta del primo centro medico estetico con approccio olistico nel cuore di Napoli. All'interno si possono unire più competenze per approcciarsi alle cure del corpo e rendere possibile una visione olistica delle varie metodiche, un unico spazio dunque dove le nuove tecnologie e le esperienze immaturate in diversi ambiti medici e le professionalità applicate convivono, un ponte naturale tra salute ed estetica, tra l'altro il messaggio è chiaro, il corpo è un quadro che tu stesso dipingi, dedicagli i colori giusti e la cornice migliore. Un esempio di questo può essere tranquillamente una patologia come per esempio una patologia algico disfunzionale dell'articolazione temporomandibolare, una patologia che vede dei disturbi che non sono soltanto limitati a quella che è il cavo orale ma possono anche svilupparsi anche per tutta la colonna vertebrale. Avere la possibilità di avere anche la consulenza di un posturologo è importante perché tra professionisti c'è un confronto costruttivo per cercare di trovare il piano terapeutico migliore per la singola patologia del paziente.